Una giornata emozionante per tutte, per le squadre, per chi guarderà la partita, per me anche in particolare perché ritornare qua a San Siro da allenatore dopo che ho visto la maglia del Milan come giocatore per me è un orgoglio estremo. Come detto Valentina daremo il massimo domani sera, una partita difficile perché incontriamo chiaramente la Juventus però daremo battaglia dal primo all'ultimo minuto questo lo assicuro già adesso e già le ragazze lo sanno l'abbiamo sempre fatto ma è un modo anche di dare un premio a queste fantastiche giocatrici perché se lo meritano era giusto giocare questa partita qua a San Siro contro la Juventus. Le stazioni sono buone, abbiamo cambiato tanto, abbiamo preso tantissime straniere, abbiamo preso giocatrici italiani interessanti, abbiamo cambiato il sistema di gioco quindi ci vorrà ancora un po' di tempo però siamo alla sua strada giusta. Le ragazze danno sempre il 100% durante gli allenamenti e poi durante le partite si vede l'impegno settimanale perché poi come dico sempre alla squadra le partite si costruiscono durante la settimana e la domenica o sabato bisogna solamente andare in campo, dare il massimo e divertirsi. Mi ringrazio la società per questa grande opportunità che ci ha dato, cercheremo di ripagarla nel migliore dei modi, comunque credo che questo sia il sogno di ogni calciatrice, cavalcare il campo di San Siro, comunque il tempio del calcio, uno degli stadi più belli d'Europa, è una grande emozione e speriamo di fare bene.